Cura della persona, benessere, consulenza nutrizionale e telemedicina, ma anche tantissime dei regali per questo Natale. Siamo qui oggi alla Farmacia Borgia, venite con me. Tisane funzionali con cui degustarle in maniera ancora più rilassante, dando anche un tocco di originalità ed eleganza. Poi possiamo proseguire questo viaggio sensoriale diffondendo nella nostra casa oli essenziali attraverso questi eleganti diffusori, oli che ci inebbrino non solo con il loro bellissimo aroma, ma anche con la loro funzione, che è quella di relax, quella che porta a favorire la concentrazione o a darci la giusta carica per iniziare bene la giornata. Dottore Di Novella, mangiare non rinunciare al gusto. Questa è la linea Liposux. Sì, la linea Liposux è un integratore dimagrante da cui poi sono nati tantissimi alimenti low carb per permetterci di concederci qualche sfizio senza però rinunciare alla linea. Quindi sono gustosissimi, piacevolissimi, sazianti, però non ci danno senso di colpa quando li mangiamo. Mantenersi in forma ma non rinunciare al gusto. Questa è la linea Liposux. Cioccolato. Buonissimo. Tutte le nostre idee regalo hanno un ottimo standard di qualità, prezzi davvero contenuti. Si parte ad esempio da meno di 5 euro e per regali di almeno 30 euro offriamo 5 euro di buono per le analisi del sangue, l'oltrepressorio cardiaco e l'elettrocardiogramma, servizi che facciamo qui in farmacia perché il regalo che facciamo agli altri può essere anche un'occasione di fare un regalo alla nostra salute. Grazie a tutti.